Hazel A Hazel piacevano i grandi spazi aperti, ma scalare 60 metri di scogliera su gradini malsicuri e con una donna la nevrotica appollaiata su una spalla… beh, mica tanto. Soprattutto quando avrebbe potuto cavalcare Arion e arrivare in cima in una manciata di secondi. Jason camminava dietro di lei per poterla prendere nel caso cadesse. Hazel apprezzava il gesto, ma non per questo lo strapiombo le sembrava meno spaventoso. Giede un'occhiata a destra e fu un errore. Mise male un piede, lanciando uno spruzzo di ghiaia oltre il bordo. Gale squittì allarmata. «Stai bene?» chiese Jason. «Sì». Il cuore di Hazel batteva come un martello pneumatico contro il petto. «Sto bene». Non c'era neanche lo spazio sufficiente per voltarsi a guardare Jason. Doveva solo fidarsi che non l'avrebbe lasciata precipitare. Jason era in grado di volare, perciò era stata la scelta migliore. Eppure Hazel avrebbe preferito che ci fosse Frank a coprirle le spalle. O Nico, o Piper, o Leo. O perfino… beh, ok, non esageriamo, forse Hedge no. Questo perché non aveva ancora capito per davvero chi fosse Jason Grace. Era dal suo arrivo al campo Giove che sentiva meraviglie sul figlio di Giove. I ragazzi parlavano con venerazione di quel ragazzo che dagli ultimi ranghi della quinta coorte era surto al ruolo di pretore, gli aveva condotti alla vittoria nella battaglia sul monte Otri e poi era scomparso. Ancora adesso, dopo gli eventi delle ultime settimane, Jason sembrava più una leggenda che una persona. Hazel trovava difficile legare con lui, con quei suoi occhi di ghiaccio e quella sua cauta riservatezza, come se soppesasse ogni singola parola prima di pronunciarla. E poi lei non era ancora riuscita a dimenticare la disinvoltura con cui Jason aveva abbandonato Nico quando avevano saputo che era prigioniero a Roma. Certo, Jason aveva pensato che Nico fosse solo un'esca e i fatti gli avevano dato ragione. E forse ora che Nico era sano e salvo, Hazel riusciva a comprendere meglio il motivo di quella cautela. Però non riusciva ancora a farsi un'idea precisa sul figlio di Giove. E se in cima a quella scogliera fossero finiti nei guai, e Jason avesse pensato che salvare lei non fosse nell'interesse della missione. Hazel guardò in su. Non poteva scorgere il brigante, ma ne avvertiva la presenza. Li stava aspettando. Lei era certa di poter evocare abbastanza oro e pietre preziose da impressionare perfino il trappinatore più avido. Si chiese se i suoi tesori portassero ancora sfortuna. Non aveva mai capito fino in fondo se la maledizione si era spezzata con la sua prima morte. Quella sembrava un'ottima opportunità per appurarlo. Chiunque derubasse semidei innocenti, in combutta con una tartaruga gigante, si meritava qualche brutta maledizione. D'un tratto Gail saltò giù dalla spalla della ragazza e zampettò in avanti. Poi si voltò a guardarla ed emise un verso d'impazienza. «Sto andando più veloce che posso», muggugnò Hazel. Non riusciva a scrollarsi di dosso, la sensazione che la donnola morisse dalla voglia di vederla fallire. «Questa faccenda di controllare la foschia», disse Jason, «sei riuscita a venirne a capo?» «No», ammise Hazel. Non le piaceva pensare ai propri fallimenti. Il gabbiano che non aveva trasformato in drago, la mazza da baseball di Hedge che si era rifiutata di diventare un hot dog. Non era proprio capace di convincersi che una qualsiasi di quelle cose fosse possibile. «Ci riuscirai», affermò Jason. Il suo tono la sorprese. Non era un commento buttato lì solo per gentilezza. Jason sembrava davvero convinto. Hazel continuò a salire, ma immaginò di vedere i suoi penetranti occhi azzurri che la fissavano, la mascella stretta in un'espressione decisa. «Come fai a esserne sicuro?» «Lo so e basta. Sono bravo a capire le capacità delle persone, dei semidei perlomeno. Ho un certo istinto.» «Eccate non avrebbe scelto te, se non avesse creduto che avevi questo potere.» Forse quella risposta avrebbe dovuto tirarla su di morale. E invece, niente. Anche lei era brava a giudicare la gente. Riusciva a comprendere quali erano le motivazioni che spingevano la maggior parte delle persone, nico incluso, che non era facile da interpretare. Ma Jason? Rimaneva un mistero. Tutti dicevano che era un leader nato e lo credeva anche lei. Eccolo là, tutto teso, a farla sentire un componente prezioso della squadra, a dirle che era capace di tutto. Ma lui, Jason, di che cosa era capace? Hazel non poteva condividere quei dubbi con nessuno. Frank aveva soggezione di Jason. Piper naturalmente lo adorava. Leo era il suo migliore amico. Perfino Nico sembrava seguirlo senza obiezioni. Ma Hazel non riusciva a dimenticare che Jason era stato la prima mossa di Hera nella guerra contro i giganti. La regina dell'Olimpo lo aveva fatto piombare nel campo mezzosangue, innescando la catena di eventi mirati a fermare Gea. Perché cominciare da Jason? Qualcosa le diceva che lui era il perno di tutto. E sarebbe stato anche l'ultima mossa. Fuoco, tempesta, il mondo cadere faranno. Così diceva la profezia. Per quanto Hazel temesse il fuoco, le tempeste le facevano ancora più paura. E Jason Grace era in grado di provocarne delle belle. Hazel alzò lo sguardo e vide il margine della scogliera a pochi metri di distanza. Arrivò in cima, sudata e con il fiato grosso. Le tremavano le gambe dalla fatica. Un lungo declivio scendeva verso l'entroterra, cosparso di olivi e massi di calcare. Non c'erano segni di civiltà. Gea sembrava ansiosa di lanciarsi in esplorazione e accompagnando un latrato con uno dei suoi peti pestilenziali, si tuffò in mezzo ai cespugli. Giù nel canale, in lontananza, l'argodue sembrava una barchetta giocattolo. Hazel non riusciva a credere che si potesse scagliare una freccia con tanta precisione da quell'altezza e a quella distanza, tenendo conto del vento e del riflesso abbagliante del sole sul mare. All'imbocco dell'insenatura, l'enorme sagoma della tartaruga luccicava come una moneta brunita. Anche Jason raggiunse la cima, in condizioni perfette nonostante la salita. Fece per chiedere «Dove?» «Uì!» disse una voce. Hazel trassalì. A pochi metri di distanza era comparso un uomo, con l'arco e la faretra in spalla e due antiche pistole a focile in mano. Indossava stivali di cuoio, calzoni di pelle al ginocchio e una camicia da pirata. I capelli ricci e neri erano pettinati come quelli di un bambino, e gli occhi verdi e scintillanti erano abbastanza amichevoli. Ma una bandana rossa gli copriva la metà inferiore del viso. «Benvenuti!» esclamò il bandito, puntando le pistole contro i due semidei. «O la borsa, o la vita!» Fino a un secondo prima non era lì, Hazel n'era certa. Si era materializzato all'improvviso come se fosse sbucato da dietro una tenda invisibile. «Chi sei?» gli chiese. Il bandito rise. «Cirone, naturalmente!» «Cirone?» domandò Jason. «Come il centauro?» Il bandito alzò gli occhi al cielo. «Cirone, amico mio! Figlio di Poseidone e ladro d'eccezione! Oltre che è un gran bel pezzo d'uomo! Ma questo non ha importanza!» «Non vedo beni di valore!» esclamò come se fosse un'ottima notizia. «Avete scelto di morire?» «Aspetta!» intervenne Hazel. «Abbiamo beni di valore, sì! Ma se te li diamo, chi ci assicura che ci lascerai andare?» «No, me lo chiedono sempre!» replicò Cirone. «Giuro sullo Stige che non appena mi darete quello che vorrò, non vi sparerò! Vi rimanderò subito giù per la scogliera!» Hazel lanciò a Jason uno sguardo diffidente. Stige o no, il modo in cui il bandito aveva formulato il suo discorso non la rassicurava per niente. «E se invece ti sfidiamo?» replicò Jason. «Non puoi combattere contro di noi e tenere in ostaggio la nave contemporanea. Bang! Bang!» Fu così veloce che la mente di Hazel ci mise qualche attimo per registrare l'accaduto. Dalla tempia di Jason si levava un ricciolo di fumo. Proprio sopra l'orecchio sinistro, un solco divideva i capelli come la striscia lasciata da uno pneumatico sull'asfalto. Una delle pistole di Cirone era ancora puntata sul suo viso. L'altra invece era diretta verso il basso, oltre la scogliera, come se il secondo colpo fosse stato sparato contro Largo 2. Hazel si sentì strozzare il fiato per lo shock. «Che hai fatto?» «Non preoccuparti!» Cirone rise. «Se tu potessi spingere lo sguardo fin laggiù, vedresti un buco sul ponte, proprio in mezzo ai piedi di quel ragazzone, quello con l'arco. Frank!» Cirone fece spallucce. «Se lo dici tu, era solo una dimostrazione. Temo che le cose avrebbero potuto essere ben più gravi!» E roteò le pistole. Si udì uno scatto, e Isel ebbe la sensazione che si fossero appena ricaricate magicamente. Cirone guardò Jason, ammiccando con le sopracciglia. «Allora, per rispondere alla tua domanda, sì, posso combattere contro di voi e contemporaneamente tenere in ostaggio la vostra nave. Munizioni di bronzo celeste, alquanto mortali per i semidei. Voi due morireste per primi. Bang, bang! Poi con calma mi occuperei dei vostri amici sulla nave, uno alla volta. La pratica di tiro è molto più divertente, con i bersagli che scappano e gridano terrorizzati!» Jason si toccò il solco che la pallottola gli aveva lasciato fra i capelli. Per una volta sembrava scosso. E Isel si sentì le ginocchia come gelatina. Frank era il miglior arciere che conosceva, ma il bandito Cirone era di una bravura disumana. «Sei figlio di Poseidone!» palbettò. «Avrei detto di Apollo, vista la mira!» Le rughe di un sorriso si incresparono intorno agli occhi del bandito. «Oh, grazie! Ma è soltanto pratica. La tartaruga gigante, quella sì la devo alle mie origini. Non si può andarsene in giro a domare le tartarughe giganti se non si è un figlio di Poseidone! In effetti potrei sommergere la vostra nave con un'onda, ma è un lavoraccio. È molto più divertente tendere in boscate e sparare alla gente!» Isel cercava di riordinare i pensieri e guadagnare tempo, ma era difficile guardando le canne fumanti di quelle due pistole. «E la bandana a che ti serve?» «A non farmi riconoscere!» rispose Cirone. «Ma sei stato tu a presentarti!» osservò Jason. «Ci hai detto il tuo nome!» Il bandito sgranò gli occhi. «Come? Oh sì, giusto!» Abbassò una pistola e si grattò una tempia con l'altra. «Che sbadato! Scusate, temo di essere un po' arrugginito! Sono appena tornato dal regno dei morti, sapete com'è! Lasciatemi riprovare!» Alzo di nuovo le pistole. «Ho la borsa, ho la vita! Sono un bandito anonimo e non c'è bisogno che sappiate il mio nome!» «Un bandito anonimo?» Qualcosa nella memoria di Hazel fece click. «Teseo? Fu lui a ucciderti?» «Cirone scosse il capo. Dovevi dirlo per forza? Andavamo così d'accordo!» Jason aggrottò la fronte. «Hazel, conosci la sua storia?» Lei annui, anche se i particolari erano ancora un po' annebbiati. «Teseo lo incontrò sulla strada di Atene!» «Cirone uccideva le sue vittime con... con... centrava la tartaruga!» Hazel non riusciva a ricordare altro. «Teseo era un imbroglione!» si lamentò Cirone. «Non voglio parlare di lui!» «Ora sono tornato dagli inferi!» «Gea mi ha promesso che potevo restare su questa scogliera e derubare tutti i semidei che volevo! Ed è quello che farò!» «Perciò... dove eravamo?» «Stavi per lasciarci andare», azzardò Hazel. «Mh... direi di no. Sono piuttosto sicuro che non era questo...» «Ah, giusto! Ho la borsa, ho la vita!» «Dove sono i vostri beni preziosi?» «Non ne avete?» «Allora mi dispiace, ma temo che...» «Aspetta!» lo interruppe Hazel. «Ho io quello che cerchi!» «O almeno posso procurartelo!»» Cirone puntò una pistola alla testa di Jason. «Bene, mia cara! Allora diamoci una mossa! Il prossimo colpo non si limiterà a rifare il taglio al tuo amichetto!» Hazel non ebbe quasi bisogno di concentrarsi. Era così turbata che il terreno rombò sotto i suoi piedi e subito le fruttò un raccolto notevole. Denari romani, dracme d'argento, antichi gioielli d'oro, diamanti, rubini e topazzi scintillanti, abbastanza da riempire diversi sacchi. Cirone rise divertito. «Come diamine hai fatto?» Hazel non rispose. Ripensò a tutte le monete che erano comparse all'incrocio di Ecate. Adesso ce n'erano perfino di più. Secoli di ricchezza nascosta, proveniente da ogni impero che avesse mai reclamato quella terra come propria, greci, romani, bizantini e molti altri. Imperi che ormai erano svaniti, lasciando quella costa spoglia alla mercè del bandito Cirone. Un pensiero che fece sentire Hazel piccola e impotente. «Prendi il tesoro e lasciaci andare», disse al brigante. Cirone ridacchiò. «Ma io ho detto tutti i vostri beni di valore. E mi pare di capire che avete qualcosa di molto speciale su quella nave. Una certa statua d'argento e oro alta più o meno... quanto? Dodici metri?» Il sudore sul collo di Hazel si asciugò all'improvviso, mentre un brivido le correva lungo la schiena. Jason fece un passo avanti. Nonostante la pistola puntata in faccia, i suoi occhi erano duri come zaffiri. «La statua non è negoziabile». «Hai ragione, non lo è», concordò Cirone. «Perché sarà mia!» «È stata già a dirtelo, intui Hazel. Ti ha ordinato di prenderla». Cirone si strinse nelle spalle. «Forse. Ma mi ha detto che posso tenerla. Difficile rifiutare l'offerta. Non ho nessuna intenzione di morire di nuovo, amici miei. Voglio vivere una lunga vita da uomo ricco e agiato!» «La statua non ti servirà a niente», replicò Hazel. «Considerato che Gea distruggerà il mondo». La canna delle pistole di Cirone tremò appena. «Come dici?» «Gea ti sta usando», continuò la figlia di Plutone. «Se prenderai la statua, noi non saremo in grado di sconfiggerla. Gea sta progettando di spazzare via tutti i mortali e i semidei dalla faccia della terra, per lasciare spazio ai suoi giganti e ai suoi mostri. Perciò dove spenderai il tuo oro, Cirone? Sempre che Gea ti lasci vivere, è chiaro!» Hazel attese che il brigante metabolizzasse la notizia. Da bandito qual era, il concetto del doppio gioco non doveva risultargli troppo difficile da comprendere. Restò in silenzio per dieci secondi buoni. Poi le rughe intorno agli occhi annunciarono un sorriso. «E va bene», disse, «non sono una persona irragionevole. Tenetevi la statua». Jason strizzò gli occhi. «Possiamo andare? Vi chiedo solo un'ultima cosa». Il sorriso di Cirone si allargò. «Esigo sempre una dimostrazione di rispetto. Prima di lasciare andare le mie vittime, pretendo che mi lavino i piedi!» Hazel non era sicura di aver capito bene. Poi Cirone si tolse gli stivali. I suoi piedi nudi erano la cosa più disgustosa che la ragazza avesse mai visto, e di cose disgustose ne aveva viste parecchie. Erano gonfi, rugosi e bianchi come l'impasto crudo del pane, quasi fossero rimasti in ammollo per secoli nella formaldeide. Ciuffi di peluria marrone spuntavano sulle dita storte. Le unghie scheggiate erano verdi e gialle, come il guscio di una tartaruga. Poi l'odore investì Hazel. Non sapeva se il palazzo di suo padre negli inferi avesse una mensa per gli zombie, ma se ce l'aveva, di sicuro aveva l'odore dei piedi di Cirone. «Allora», il brigante dimenò le disgustose dita. «Chi vuole il destro e chi il sinistro?» La faccia di Jason sbiancò quasi quanto quelle zampacce. «Vorrai scherzare?» «Per niente», replicò Cirone. «Voi mi lavate i piedi e siamo a posto. Vi rimanderò giù per la scogliera. Lo giuro sullo stige!» Pronunciò il giuramento con tale disinvoltura che Hazel sentì suonare un campanello d'allarme. «Piedi, giù per la scogliera!» «Guscio di tartaruga!» All'improvviso le tornò in mente tutta la storia. Tutti i pezzetti mancanti trovarono il loro posto. Ricordò come Cirone uccideva le proprie vittime. «Puoi darci un momento?» gli chiese. Cirone so' chiuse gli occhi, diffidente. «Per fare cosa?» «Beh, è una decisione importante! Piede sinistro, piede destro. Dobbiamo discuterne!» «Ma certo!» concesse Cirone. «Sono così generoso che vi darò due minuti!» Hazel uscì dal mucchio di tesori che aveva ancora fra i piedi. Condusse Jason più lontano che poté, a una ventina di metri dal bordo della scogliera, dove sperava di non essere più a portata d'orecchio. «Cirone butta giù dalla scogliera le sue vittime con un calcio!» bisbigliò. Jason aggrottò la fronte. «Quando ti inginocchi per lavargli i piedi!» continuò Hazel. «È così che ti uccide!» «Una volta che hai perso l'equilibrio, stordito dal tanfo, lui ti getta giù con un calcio. E tu cadi dritto in bocca alla tartaruga!» Jason si prese un attimo di tempo per digerire la notizia. Lanciò uno sguardo oltre la scogliera, dove l'enorme guscio della bestia luccicava sul pelo dell'acqua. «Perciò dobbiamo combattere!» concluse. «Cirone è troppo veloce!» replicò Hazel. «Ci ucciderebbe entrambi!» «Allora mi terrò pronto a volare! Quando mi darai il calcio, resterò a fluttuare a mezz'aria e aspetterò di prendere te quando sarà il tuo turno!» Hazel scosse la testa. «Se il calcio è forte e veloce, sarai troppo stordito per volare! E anche se dovessi riuscirci, Cirone agli occhi di un tiratore scelto!» «Controllerà! Se ti vedrà fluttuare, non farà altro che spararti!» «Allora...» Jason strinse forte l'elsa della sua spada. «Hai un'altra idea!» «Vero!» Poco lontano, Gail e la donna la comparve fra i cespugli. Gli grignò i denti e scrutò la ragazza come a dire «Allora? Ce l'hai?» Hazel cercò di calmarsi, sforzandosi di non estrarre altro oro dal terreno. Ripensò al sogno col padre, alla voce di Plutone che diceva «I morti vedono quello che credono di vedere, e così fanno i vivi! È questo il segreto!» Capì quello che doveva fare, anche che si odiava l'idea perfino più di quanto odiasse quella donna la puzzolente o le zampacce di Cirone. «Purtroppo sì», rispose. «Dobbiamo farlo vincere!» «Cosa?» Hazel spiegò a Jason con il piano». Grazie a tutti.